attenzione tratto un disturbo l'appus è sospeso attento forse ci stanno tracciando ci stanno tracciando stacca 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 ma lo volevi più stimolante e mi ha stimolato è già la 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 Pagang nam sta Hey, sexy lady Oh, 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 oh It's like rain It's like rain It's a dream ride It's a dream ride It's a dream ride It's a dream ride Oh yeah Oh, molto, molto Cerco solo di trasformarti in una signora E una signora dovrebbe essere muata Sì, is, is, is Allora, Iqbar! Buongiorno, Lara È davvero una bellissima giornata Si torna al lavoro, Temo È l'ora dell'avventura Siete pronti, ragazzi? Sì, signor capitano! Non ho sentito bene Sìì! Oh! Galeone spagnolo? Sai che giorno è, Hillary? Sì Galeone spagnolo? E questo non è mai un buon giorno Stasera Plutone e Nettuno si allineano con Urano È la prima fase dell'allineamento dei nove pianeti Che culminerà con un'eclissi solare totale Si verifica una volta ogni 5.000 anni Vorrei sapere se c'erano i reti a castello e se il quattordicesimo scrostava il plafone con i denti. Questi sono particolari, irrilevanti ai fini della poetica. Basta un poco di Poppins. Il signor Powell di chi si occupa? Poppins. Io sono il suo assistente, il signor Poppins. Forch di del... Che piacere. Il signor Poppins, in persona. Gaetano, se non sbaglio... Lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche. Non so, hardware... Creiamo dei supporti che poi serviranno per progettare grosse situazioni, insomma, proprio strumenti di precisione per una svolta magari futura anche della meccanica... Eh, non so se mi spiego... E non si riesce a capire un cazzo! E non so se mi spiego... E non so se mi spiego... E non so se mi spiego...